anche nella seconda guerra civile dal 49 al 45 avanti cristo si confrontarono due personaggi di primissimo piano dal punto di vista politico e militare da una parte caio giulio cesare nipote di gaio mario abile uomo politico e generale esponente dei populares dall'altra pompeo luogo tenente di silla esponente degli optimates abilissimo generale e stratega che aveva costruito le basi del suo prestigio politico grazie a una vittoriosa campagna militare in asia i due assieme a licinio crasso un ricco senatore proveniente dalla classe dei cavalieri diedero vita al primo triunvirato nel 60 avanti cristo il primo triunvirato era un accordo privato il cui scopo era di fatto la spartizione del potere pompeo vedeva riconosciuto l'assetto che aveva conferito alla provincia d'asia consolidando così la sua enorme influenza in quell'area e ottenendo terre per i suoi veterani cesare dal canto suo dopo aver esercitato il consolato nel 60 avanti cristo nel 58 si fece assegnare il proconsolato della gallia cispadana e della gallia narbonense che gli servirono da testa di ponte per la conquista della gallia dal 58 al 52 avanti cristo proprio il crescente prestigio che cesare aveva acquisito grazie ai successi della campagna di gallia mise in crisi il primo triunvirato forte della rapida conquista della gallia e di un'enorme popolarità cesare nel 49 avanti cristo varcò in armi il fiume rubicone e nel giro di pochissimo tempo eliminati pompeo nel 48 avanti cristo e i suoi sostenitori nel 45 diventò di fatto il padrone di ruolo grazie a tutti